Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati signori, siamo tornati, eccoci, siamo tornati a grande richiesta, però lasciate like, commentate e condividete, se non arriva più niente, eh, signori, attenzione. Rose in Camelia, torniamo a schiaffeggiare, come sempre, non lo fate a casa, eh, non lo fate a casa, non si fa, queste sono tra donne per soldi, si pestano male. Abbiamo fatto il primo appuntamento con la leggendaria sposa della rosa, che ha menato forte, eh, comunque è stata molto brava, si è fatta rispettare. E poi abbiamo scenario 2, la Camelia bianca della vendetta, andiamo a vedere di cosa si tratta, eh, questa è cattiva, perché questa c'aveva la rosa, questa c'ha la Camelia che era quella, oddio, sostanzialmente la famiglia aveva tutte le Camelia, vi ricordate? Punti salute. Comunque, andiamo a vedere chi è la signora. Vendetta, attenzione. Però scusate, vabbè, in inglese, prima era in giappone, non so. È passato un anno da quando quella donna ha sconfitto tutte noi, Saori. Le parole non possono spiegare il mio stato d'animo in quest'ultimo anno. Ho cercato di fare del mio meglio per sopportare un'umiliazione tanto amara, ma non posso più farlo. Oggi ha superato il potere della grandama Tsubaki. Oggi ha superato il potere... Ah, ok, ora nessuno della vostra famiglia andrebbe mai contro di lei. Com'è potuto accadere? Se è solo una donna della classe inferiore. Lei, Saori. Sì, proprio così. Non è altro che una popolana. È stato un errore che una persona come me abbia perso contro di lei. Avrei dovuto essere io a possedere il potere della grandama. Ma qua era tutto per soldi. Ma questa chi è? È una delle sorelle, secondo me. Non ricordo minimamente i nomi. Cosa state facendo? Ah no, questa è un'altra. Cosa state facendo, Saori? Sorella, perché indossate quella rosa? Avete perso l'orgoglio della famiglia Tsubaki Koji? Questa ve ricordate? È la prima che è stata pestata, credo. O la seconda, comunque, era una di quelle. Lady Reiko è la grandamma, ora. Era diversa. Vai, ci tutta. La grandama, ora. E quanto donna adulta, Saori, dovreste rispettarla. Dovete essere paziente. Sono la figlia minore della famiglia Tsubaki Koji. Nessuno mi ha insegnato a essere paziente. Mi ha insegnato a essere paziente. E sarò io l'erede di questa casa. Ma è la minore, quindi comunque in ordine di... Sì, infatti, mi devi dire. Ah, fate attenzione a come parlate. Ad ogni modo, se siete tanto determinata, dovete prima sconfiggere me per peppere. Attenzione. Riuscivano di abbassare un po' il volume degli altri. Sì, l'ho abbassato, l'ho abbassato. Ok, quello volevo dire da quando... Vai, parti tu, parti tu. Aspetta, aspetta. Veloce. Mi dovevo infilare i lacci? E dai, che qua ci perdiamo gli schiaffi. Eia, ma... Mo' mi sono parata. Eh... E dai. Eh, guarda sta stronza. Attenzione. Ma vaffanculo. Eh, ma vaffanculo. Eh no, mo' ti aspetto. Ah, ma non spezza, bastarda. Bastarda. Nonna, uno strascino. Incredibile. Eh, forte, forte. Questa è tosta. Questa è una brutta... Non si dice. Bip. Non si dice. Siete quattro pari. Ah, vaffanculo. No, no. T'ho fregato. No. Non si dice. Attenzione. No, ma ha fatto, ma ha fatto, ma ha fatto. Mamma mia. Eh, la tensione, la tensione del momento. Vai mo, vai mo. Brava. Non piano, signora. Quale volgarità, però? No, non ho detto niente. Ma noi siamo con due dita, troppo. Eh, mamma mia. Dritto e rovescio. Attenzione. Ma mi distra... Top spin. Oh, headshot. Eh no, questa è stata. Ma è una stronta perché... Sì, però non si dice. Va, al prossimo due... Com'è il prossimo duello? Subito a secco? Vediamo. Mi dispiace, sorella. Mi sono resa conto di una cosa. Tutto ciò che voglio è vivere nel lusso. Senza fare nulla. Anche io. Eh, allora ci dobbiamo prendere a schiaffi, ma tanto non abbiamo alcuna eredità, quindi non funzionerebbe uguale. Lady Saori. Come... No, questo sei tu. Come siete cambiata. Ah, questa è la signora del piano di sopra. E tu fa, signora del piano di sopra. Come persona che serve questa famiglia ho assistito a tutta la vicenda e non è buona idea mettersi contro la grandama. Vabbè, però quell'altra ha vinto contro la grandama. Ah, questa così sta sempre? Sì, vive come un pipistrello. Allora siete dalla sua parte anche voi? Avete dimenticato la gentilezza che vi ho mostrato, Mita? Siete disposta a mordere la mano che vi nutre? Madonna, è che è un animale. Mita si è dimenticata la dentiera, tra l'altro. Eh, ma pure gli occhi. Sono solo una cameriera che serve la sua signora. Bisogna stare dalla parte di chi detiene il potere. È così che si vive da adulto. Questa è la classe politica italiana, però. C'è da dire che però la... Come cazzo si chiama quella del primo episodio? Si è guadagnata il potere. Cioè, ha sfidato. Quindi, insomma... Carogna! Dovrei prenderti a schiaffi! Beh, è questo il punto carico. Quanta volgarite! Se solo obbedite... Se obbedite solo a chi detiene il potere, allora vi obblicherò a obbedirmi. Avete dimenticato che sono stata io a prendermi cura di voi da quando eravate in fascia? Mi si ringrazia a metto. Sarà un gioco da ragazzi per me schivare i vostri schiaffi. È perché questa magari già la bambina c'era le mani pesanti. Però, vediamo, vediamo, attenzione. Qua dobbiamo giocarci qualche finta, eh. Anche perché questa c'ha le mani... Mamma mia, quanta salute. Il suco. Ah, signor! Ah, signor! Ma che ne sai? È lentina, è lentina. Eh, ma questa... Mamma! Mamma! Mamma mia! Eh, 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 boom! Aiutimelo! Mamma mia, signori! 48.000 schiaffi, ed ha... Dobbiamo fare... Il perfect! Mamma mia, signori! Non ci ha neanche spiorato! Siamo usciti col... Col trucco come prima! Incredibile, straordinario! Eh? Perfect! Non permettetevi di parlarmi mai più in questo modo! Sì, lo prometto, si deve diventare una donna così forte! Madre! Chi è? Ma dove vivono questi? Fai l'apprendista! Come apprendista cameriero ho assistito a tutta la vicenda! Questa è quella che poi un giorno si troverà sul soffitto! Gli apprendisti, vedi, stanno sotto i tavoli! Quando sei un pro della... Della camerieria, sei sul soffitto! È giusto così! Chi siete? Presentatevi! La mia figlia è da poco diventata maggiore nel lavoro con l'apprendista cameriera! Sono soppai io? Sì! Sono solo un'apprendista, ma sono molto orgogliosa del mio lavoro a servizio della famiglia Tsubaki Koji! Non permetterò a nessuno di mettersi contro le di Reiko! Anche se si trattasse di un membro della famiglia Tsubaki Koji! Allora prepara il laccetto che non si sa mai che qua tra poco potrebbe scattare la rissa! Vediamo se riesci a sconfiggere le di Reiko e a diventare la prossima grandama! Oh Dio, sono gemelle! Un incubo! Via! Corri! Le gemelle non le puoi battere! Non si battono le gemelle! Guarda la faccia della protagonista! Questa è la mia faccia di quando vogliono l'altra caramella e io non posso combatterle! Due allo stesso tempo? Ma ingiusto come la morte! Sono d'accordo, Saori! Non è normale! Ma date a come parlate! In guardia! Eh, mo vediamo se la... Eh, no, mo le gemelle te le tieni tu! Eh, mo vediamo! Se anni e anni ti insegniamo... Eseguitati dalle gemelle! Proprio come loro, guarda! Hai visto? Mamma mia, doppio schiaffo! Incredibile! No, io fa perdo! Eh, le gemelle! Guarda come scraffignano! Ma io non ci arrivo neanche all'oro! Ma perché non fai la Findus! Eh, ti stanno a ribaltare come un calzino! Vai, mo! Oh! Ah, perché fai il doppio schiaffo! Però loro sono doppi... Cioè, tu le prendi tutte e due, ma loro sono... Mi stanno insamando perché non so a chi guardà! Vabbè, tanto è uguale! Eh, ma... Guardi, se ho abbattuto pure il 5! Io faccio il posto? Eh, sì! Ah, vedi! Oh, hai visto, hai visto! Guarda, prima uno è ponato! Vai, mo! Vai, mo! Sì, sì! A cartocciale! Oh, ho fatto 66 mila! Sì, però stanno 3 a 2! Eh, 66 mila punti! Sì! Eh, qua! Per me è un punto! Eh, 3 a 1, signori! Stanno quasi scartabellata la signora! Eh, sì! In realtà, sì! Brava! Vai, mo! Ah, no! Non è che ogni volta puoi... Lo tocca a te, però! Forte! Attenzione, eh! Questo è decisivo! Faccio voler un... Un colpo! Ah, attenzione! Si rischia qua! Basta con queste finte! Fanno qui! Eh! Ma cazzo! Lo sapevo che perdievo contro le cazzo di gemelle! Sì, veramente! Ah, attenzione! Proviamo il cambio! Ma queste anche, secondo me... Eh, queste le gemelle sono toste! È il mio inconscio! Non voglio fargli del male! I told you! You've got to be stronger than that to be our master! L'avevo detta! L'avevo detta! Doveva essere più male! No, ritorna... Ah, c'è anche il countdown! Che cazzo può leggere! Eh, no! Perché c'era il countdown! Eravamo a due secondi! Tipo la sala giochi! Quindi devi mettere il gettone! Ah, è difficile perché... Ti distrae, no? Le ritorno! Ah, belle! Guarda! Ah, cazzo! Si fregano! Viano, viano, viano! Le stiamo studiando! Uh, uh, uh! Fra cazzo! Aiuti un bel bel pezzo! Come la macarina! Shekera! Eh? Non soppresa! Ah, vi state intimorendo adesso, eh! Si sta gonfiatando quella a destra! attenzione 4 a 1 però siamo in vantaggio capite come si chiamano come si chiamano a casa non le trattiamo così le gemelle comunque siamo noi con gli occhi neri pronti così che perdita di tempo credo che questo sia il limite del potere della popolana è rimasto qualcuno da combattere? questa è la madrona secondo me è tornata la vincitrice con la rosa ah no bra madre ho capito che devo lottare contro di voi per avere ciò che voglio c'è solo un modo di continuare a vivere nel lusso comunque è un gioco veramente dai sani principi devo dire la verità cioè si pestano per dei soldi proprio è molto rialzato non vorrei combattere contro il mio stesso genitore ma credo che sarà necessario per vivere sparsosamente senza lavorare oh madre perdonatemi ma i soldi chiamano prego si allacci le cinture che qui c'è una madre da pestare eh a posti schiaffi vai attenzione c'è la badante ricordate vostra cugina ma si è appena diplomata in cosa? ah complimenti anche tu che orrore è venuta la cugina dall'estero questa ha studiato sumo c'ha pure un po' l'alito pesante porco tu ammazza che cugina però c'è capelli rosa si però c'ha pure 18 barre della salute apparentemente c'è una 3 ok ma non l'avevo schivato 10 ah cazzo sempre prima forza troia sono pesante eh e dai e non ti voglio fare male no gli devi fare male eh eh sì questa oh questo c'è un sacco di salute la cugina è una mani casita o no forza di meno quella vedi questa è più semplice sì eh secondo me sì la devi certo è piuttosto però è più lenta eh più lenta eh le gemelle ti facciano quei i giochetti no ma perché le gemelle le fanno i giochetti eh per raggiurarti un modo nell'altro lo trovo oh vai muo oh attenzione ne ha qua 3 di salute incredibile sembrava guarda là i denti ha perso la cugina eh ma la cugina Imawari Kazuka eh annaggia troppo tardi vabbè siete 3 a 3 3 a 2 per te attenzione no l'aveva preso? eh sì 2 a 2 eh ma via stavo guardando la barra ah uh 2 a 1 per lei attenzione ribaltone della cugina ci sono fuori forma mamma mia la cugina attenzione ah aia eh alla fine si sta ripiando un po' come i boss di d'accordo che alla fine ti fanno sempre il culo hai visto? uh incredibile ribaltone della cugina che si pulisce la bava quando stavi pensando di vincere poi ti eh hai visto? eh ma la cugina è venuta proprio come i i souls light allora aspetta che qua dobbiamo cliccare su beh è venuta apposta la cugina dall'estero ha fatto l'erasmus vedi 8-7 cadono i pesi però io c'ho un modo per non farli cadere devi mettere nell'armadio al buio per circa un mese non la vedi poi la rosa attenzione signori fermi tutti qua all'inizio è facile poi dopo ti ehi eeeh no in realtà non è partito eeeh e vedi io è uno schiaccio deve partire è perché è quello che allena di più un po' come tutti gli uomini saluto i mancini che magari è l'altro però che è sta cagata però tu le steppi a più di me eh io alla fine la sto studiando bravo mi metterei così vicino però attenzione signora che potrebbe essere pericoloso è una tampogna una tampogna c'è tensione nell'aria la troia è questa una rosa è perché poi si mette pure in posizione da schivata eh no no ma perché non prende subito il colpo prima era più reattiva porto giù stiamo a giocare 4 a 2 per lei attenzione Cristo santo 3 a 2 per lei vai eh però lei la seconda rosa già me l'ha ammaccata un pochino e l'ha pure eliminata ma che è sta cagata eh ma perché si stava spostando l'hai preso hai preso con le punte scusa signora t'ho detto un po' più lontano che qua è pericoloso vai così hai visto così la cugina bravo si stai sconfiggendo tutti tu eh comunque mi stanno vedendo i crampi non sono più allenato sono più allenato signora saori non so cosa fosse ma l'ho sconfitta ora voi popolana fatevi avanti sono la vera grandama della famiglia Tsubaki Goji davvero? non ho mai conosciuto una grandama senza marito ma scusa se lei lì è appena morto il marito che gli ha lasciato la rosa è una grandama vabbè però il marito ce l'aveva questa è questa è zitella l'altra ah beh lei è vedova lotta tra l'altra tra tutti i tani chiudete il becco razza di arrogante sarò io la beh pure lei per i social sarò io la grandama se lo voglio accettate il mio schiaffo con grazia si prepari si prepari con lo schiaffo di grazia no ma io ho queste eh avete dimenticato così fretta quello che vi ho insegnato solo un anno fa Saori voi una nobile donna avete perso contro una popolana accettate il fatto che ora siete una perdente a due sto scocchino che cazzo smettila di dire sciocchezze sei diventata presuntuosa ti umilierò e ti rimetterò al tuo posto il modo in cui parlate ricorda quello di una persona del popolo ho una brutta notizia da darvi non ho intenzione di riusciare alla casa che mio marito mi ha lasciato no stavo a vedere c'hanno gli anelli della eh sì la grandama ah già quindi questa è un po' gli anelli mo è lei grandama ma stiamo alle mani se vero ma giusto ma scena poi vedremo chi chi sarà meno alle mani meno alle mani vediamo vediamo chi si gioca la grandama vediamo quindi adesso ma volevo fare una vecchia è stata elegante è stata elegante oh no io oggi proprio non oggi non si è allenata si era forte bravo eh le sono spostate però eh mamma mia pure lei ha caricato eh sta 5 a 1 attenzione 4 a 1 vai che puoi ribattare la situazione vai mo bim eh ma che è sta cagarella forco 2 ti ha ribaltato la testa va bene riprova riprova io non so allenata vai vai r per caricare ancora più forte no basta che lo tieni premuto si quando dai lo schiaffo ah ok eh ci sono le decchiche oh dio oh vai mo oh vedi e della potenza però non ho premuto eh no no hai visto nel senso che adesso va un po' meglio ah ecco si ma fatta di fine mi sto un po' pirando il cervello è perché ti dà suggerimento subito appena questa dà lo schiaffo vai faccio di mio senza guardare niente si ehi vai devo guardare un cazzo meno a sentimento si ehi vedi è proprio a uh a cuore a cuore le bocca torto 2 vieni prova mi hai riposto mi hai riposto mi hai riposto mi hai riposto mi ha devastato è un duro mestiere ma qui la signora di casa oh questo è questo capitolo è un po' più eh giustamente si va avanti è difficile pensa ai prossimi non so quanti capitoli sono se ce ne sono di più boh mo vediamo ma questo poi viene immarito dall'oltretorno eh no no non credo bravo la mettiamo a posto la fece della mamma da c'è due questa è la più veloce è questa un cinguino e alcuni li fa più lenti altri più veloci è a due per lei funziona bravo bravo la dobbiamo far durare eh no però cazzo si è imballata ma io l'ho fatto l'ho fatto così vedi orco due vabbè 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 cazzo vai ancora ancora bravo ma non l'ha fermato col dito vittoria abbiamo vinto però ci ha lanciato da qualche parte vittoria nostra in teoria dopo il duello vedi capiamo capiamo fu così che calò il sipario sulla seconda guerra della famiglia Tsubaki Koji l'abbiamo vinto Tsubaki Koji in qualche modo Lady Saori sembra non essersi arresa ed è ancora determinata a combattere anche dopo essere stata sconfitta definitivamente credo di aver visto un lieve sorriso sulle labbra di Reiko quando ha sconfitto Lady Saori quindi abbiamo passato avendo raggiunto la vetta con le proprie forze immaginava che qualcuno avrebbe tentato di sfidare il suo potere no era voluto cioè dovevamo vincere ma comunque poi perdevamo ah l'era della nuova generazione è certamente arrivata non posso fare a meno di perdermi in questo pensiero in questo giorno d'inizio estate sono sicura che la famiglia Tsubaki Koji è destinata a sbocciare più rigogliosa e luminosa che mai a forza di mazzate attenzione oh e questo era il secondo scenario perché poi in realtà sto gioco cioè praticamente quello che stiamo vedendo è la rosa in camellia collection perché apparentemente poi sono andato a vedere che cazzo è un gioco che è uscito tanto tempo fa tipo episodi ognuno di questi forse era un episodio insomma proprio come una telenovela bellissimo comunque solo tu solo tu vedi solo io trovo queste chicche però è voi seguite per questo però lasciate anche like e condividete il capitolo della gioventù internazionale attenzione eh qua si fa vediamo un attimo quale sarebbe si chiama proprio così il capitolo della gioventù internazionale ma solo se lasciate like se condividete e commentate se no niente niente botte mi raccomando signori supportate se no vi prendiamo a schiaffi ecco attenzione attenzione ci vediamo eventualmente alla prossima un sacco di like ciao ciao gari